Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di geografia. Siamo a pagina 154 del nostro libro e oggi parleremo, come vedete dal titolo, dei popoli d'Europa. Quindi parleremo di come è fatta l'Unione Europea, quali sono un po' i vantaggi del vivere in Unione Europea e poi quali sono le lingue che si parlano in Europa, come è distribuita la popolazione, il fenomeno dell'immigrazione e basta, questi sono gli argomenti. Allora, io ho tagliato pagina 155, andiamo subito a pagina 156 dove c'è una tabella, guardiamola un po', così facciamo un po' di ripasso di grafici e degli strumenti della geograficità. Allora, questa tabella, vedete, riporta a sinistra l'anno di riferimento, quindi 500 d.C., 1000 d.C., eccetera, eccetera, e in corrispondenza circa, perché nessuno lo sa di preciso, i milioni di abitanti che risiedevano e che vivevano in Unione Europea. Vedete, nel 500 d.C. ci sono circa 30 milioni di abitanti e poi, con varie oscillazioni, si arriva all'esplosione demografica del 1700, 1800, 1900. Vedete, adesso siamo circa 728 milioni in tutta l'Unione Europea, in tutta l'Europa, il continente europeo. Poi vedremo qual è la differenza. Se riportiamo questi dati su un grafico, questo si chiama histogramma, perché è fatto con le colonne, a sinistra sull'asse delle ordinate abbiamo la popolazione, in milioni di abitanti, in basso sull'asse delle ascisse abbiamo, come al solito, il nostro riferimento temporale, quindi gli anni. Io vi ho fatto un po' di segnetti qui, non li ho colorati, per pigrizi, abbiate e pazienza, ma vedete che la popolazione europea nel 500 era di 30 milioni, quindi ho segnato proprio una righetta qui, poi più o meno siamo sempre sui 28, 32, 36, 29, eccetera, e poi abbiamo una ripresa demografica, un'esplosione demografica, anzi, intorno all'anno 1000, 1100, 1200, 1300, poi la peste, questo crollo demografico è dovuto alla peste, che si porta via in alcune zone d'Europa tra un terzo e la metà della popolazione, e poi arriviamo alla rivoluzione scientifica, alla sanità, agli antibiotici, all'acqua corrente, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo questa esplosione demografica che ci porta quasi a 800 milioni. Saltiamo pure l'altra parte, la popolazione europea a colpo d'occhio, cominciamo a dire due cosine, questa immagine non so da dove è tratta, penso da un paese del nord Europa, vedete qui c'è scritto Nordic, le tegole sono fatte così, non sono le nostre, sono quelle del nord Europa che sono inchiodate per sopportare queste pendenze, la popolazione tra l'altro è abbastanza sfruttiva, l'Europa quindi sicuramente non è una città italiana, vedete quanta gente corre, molti anziani e pochi bambini. L'Europa è il continente più anziano del mondo, questo è il primo dato che ci dobbiamo ricordare, nessun altro continente al mondo ha un numero di anziani paragonabile al nostro. La popolazione anziana europea è molto attiva, perché per fortuna in Europa si arriva a una certa età, 70 anni, 80 anni, e di solito in buona salute, quindi ci si tiene attivi, e ovviamente se uno campa fino a 80 anni aumenta la quantità di popolazione anziana nelle statistiche, ma questo fatto, questo dato di fatto, si unisce anche al secondo fatto che ci sottolinea il nostro libro, che in Europa nascono pochissimi bambini. Le donne in media hanno meno di due figli a testa, e quindi se marito e moglie sono due persone e mettono al mondo due bambini, siamo in equilibrio demografico, no? Abbiamo due adulti che fanno due bambini, quando papà e mamma moriranno, non ci saranno più, verranno rimpiazzati da due bambini, che nel frattempo saranno diventati adulti. Ma se una coppia di due persone, mamma e papà, fanno un solo bambino, capite che c'è una riduzione netta del 50%, perché quando mamma e papà moriranno, resterà soltanto il loro figlio unico a rimpiazzarli, quindi di due persone ne rimane una sola. A questo proposito alcuni studiosi hanno proprio parlato di, per l'Europa, di inverno demografico, cioè una situazione invernale in cui le persone non nascono, nascono molto o meno di prima, e quindi la popolazione europea aumenta come età media, perché gli europei, insomma, gli dispiace morire giovani, cercano di campare il più possibile, quindi fino ai 70, fino agli 80, sappiamo anche nelle nostre zone, sono sempre dei centenari che una volta a settimana compiono gli anni. E quindi gli europei tendono a vivere di più, fanno pochi bambini, questo ci porta ad avere un continente molto anziano. Altra caratteristica fondamentale, fondamentale da ricordare dell'Europa, è che lo Stato, gli Stati che compongono l'Unione Europea, sono degli Stati assistenziali. Che cosa vuol dire? Leggiamo. La popolazione europea gode di moltissimi servizi erogati, cioè forniti gratuitamente, o a prezzi contenuti, cioè bassi, dagli Stati. Ad esempio, l'istruzione inferiore e superiore. In Italia, voi lo sapete, penso meglio di me, ma per iscriversi all'elementare, alle medie e alle superiori, la tassa di iscrizione è 0 o 30 euro, una cosa del genere. Poi uno deve comprarsi i libri, il corredo, pagare la mensa, il trasporto, è tutta un'altra storia. Ma la scuola, gli insegnanti, i muri, il scaldamento, le pulizie, eccetera, costano pochissimo, e sono obbligatori, tra l'altro. Inoltre, in Europa e anche in Italia, se un cittadino va all'ospedale, al pronto soccorso, può ricevere cure mediche gratuite. Sia che si sia arrotondito, sia che debba fare un intervento a cuore aperto, le cure sono gratuite, più o meno. E inoltre ci sono musei, eventi culturali, mostre, eccetera, eccetera. Inoltre, gli europei, quando arrivano a una certa età, 63 anni, 65, 60, e smettono di lavorare, hanno diritto a una pensione. Cioè una specie di stipendio, appunto una pensione, che serve, che loro hanno messo da parte durante la loro vita lavorativa, e che, arrivati alla pensione, appunto, lo Stato gli paga tutti i mesi. Sussidi e assistenza, ad esempio, sussidi e disoccupazione. Molte disoccupazioni, ecco, tutto ciò può sembrarci normale e inevitabile. In realtà, l'Europa è un'eccezione, ragazzi. Se andiamo negli Stati Uniti, in Africa, in Asia, in quasi tutto il resto del mondo, gli stessi servizi, se esistono, sono a pagamento, ok? Vi ho preparato, perché di solito, scusate, di solito sono abituato a fornire dei dati, quando dico qualcosa, vi ho preparato un esempio molto banale di quanto costa avere la sanità negli Stati Uniti. Tutto ciò che noi, in Italia, o in Francia, o in Germania, abbiamo gratuitamente, per il solo fatto di essere dei cittadini, quindi di pagare le tasse, quindi possiamo andare all'ospedale, farci curare, senza spendere un soldo, negli Stati Uniti è a pagamento. Si fanno delle assicurazioni, a meno che chi ha i soldi paga un'assicurazione, vedete che, questo qui è la spesa dell'assicurazione media mensile per una famiglia. Vedete che negli Stati Uniti, nel 2018, una famiglia pagava 1168 dollari al mese per avere la sanità. Poi magari non la usava, perché quel mese lì va tutto bene, però se invece, un mese che va male, ti capita di romperti un braccio, di avere un problema cardiaco, eccetera, eccetera, se vuoi andare in ospedale e farti curare, devi avere in tasca l'assicurazione. Ma per avere in tasca l'assicurazione, ogni mese devi pagare per la tua famiglia questa cifra qui. La stessa cosa, non ve l'ho cercata, ma la stessa cosa succede per le scuole. Faccio solo un esempio. Negli Stati Uniti, tanto per parlare di un paese che conosciamo, più o meno per sentito dire, l'iscrizione a una scuola pubblica costa poco, però le scuole pubbliche sono anche le peggiori, quelle che poi non ti fanno trovare il lavoro di solito. Se tu vuoi andare invece in una buona scuola, che ti darà l'opportunità di avere un buon lavoro, devi essere disposto a pagare tasse di iscrizione annuale che viaggiano tra i 50.000 euro all'anno, i 100.000, 150.000 euro all'anno. Quindi vuol dire che 5 anni in università, più tutte le spese ti costano mezzo milione di euro, 700.000 euro, ok? In Italia invece le tasse universitarie sono basse, molto più basse rispetto a quelle americane. Poi anche lì dipende un po' dal reddito, ma siamo sui 1.000-2.000 euro all'anno, ok? E chi non ha i soldi non paga, ha diritto a frequentarli gratuitamente. Andiamo a pagina 157, Europa culla della cultura occidentale. Questo paragrafo mi sembrava un po' retorico, un po' sentimentale, ma alla fine, pensandoci bene, è giusto anche dirle queste cose. Sulla filosofia europea antica, medievale, moderna e contemporanea, sono plasmati concetti di democrazia, uguaglianza e libero mercato. Cioè, cose molto importanti con la democrazia, l'uguaglianza e il mercato libero, sono nati in Europa, nell'Europa medievale. Le principali scoperte scientifiche e tecnologiche, dal Medioevo a oggi, sono opere di scienziati e ingegneri europei. Pensiamo al motore a scoppio, l'elettricità, gli antibiotici. La maggior parte delle opere musicali, letterarie, artistiche, più celebrate in ogni parte del mondo, è stata realizzata in Europa. Quindi l'Europa davvero è una culla, uno scrigno, in cui si sono sviluppate tantissime cose molto positive. grandi opere dell'ingegno umano, grandi invenzioni, la Divina Commedia, eccetera, eccetera, tutte nate in Europa. Poi il nostro libro si dimentica di dirci che noi abbiamo creato anche la xenofobia, cioè la paura del diverso, i campi di concentramento. Queste... abbiamo fatto due guerre mondiali. La sfida per gli europei oggi è rimanere all'altezza del proprio passato positivo. non delle guerre mondiali. Un passato positivo. Oggi siamo un continente abbastanza piccolo rispetto agli Stati Uniti, all'Asia, un po' schiacciati tra questi due colossi, gli americani e i cinesi, però dobbiamo avere la forza di rimanere all'altezza del nostro passato, del nostro glorioso passato. L'Europa, ci dice l'immagine e il titoletto, è una meta di immigrazione. L'Europa attrae un altissimo numero di immigrati dall'Asia e dall'Africa, gli immigrati sono in cerca di lavoro e sono anche attrati dai servizi che offre l'Europa. Dov'è che trovano lavoro? Nella restaurazione, nell'autotrasporto, nelle edilizie, nelle fabbriche, ma non sono. Noi in Italia siamo abituati a avere questa immigrazione non di basso livello, ma che voglio dire accede a posti di lavoro faticosi, pagati non troppo bene, camionisti, muratori, operai. Abbiamo anche, soprattutto poi negli altri paesi europei, mi viene in mente la Germania, la Francia, molti immigrati che arrivano per insegnare l'università, per lavorare nei laboratori, nelle grandi industrie, eccetera, eccetera, eccetera. Cambiamento religioso. L'Europa è stata per duemila anni il continente del cristianesimo. Ovvio, abbiamo visto, il Papa, Roma, in storia. Per secoli, i cristiani in Europa hanno mal tollerato, proprio combattuto, le altre fedi. Si dava fuoco a quelli che arrivavano, che avevano la brutta idea di dire di appartenere a una fede diversa. O, ricordiamoci soltanto, le persecuzioni contro gli ebrei, che sono un'invenzione europea, prima spagnola, poi italiana, poi abbiamo visto, è vero, anche con le crociate, no? Ricordate? C'era appunto una crociata che, andando in terra santa, aveva fatto pulizia etnica delle popolazioni di fede ebraica che trovava lungo il tragitto. Molti europei, ultimamente, negli ultimi anni, si sono allontanati da qualunque pratica religiosa. È il fenomeno del cosiddetto ateismo, che dopo vedremo più in dettaglio. Dalla fine del XX secolo, l'Islam si è diffuso in Europa, perché ci sono stati molti immigrati di fede islamica, e oggi circa il 2% degli europei è appunto di religione islamica. Adesso, ragazzi, diamo un'occhiata alla pagina 158, le lingue d'Europa. Lo facciamo rapidamente, tanto lo sappiamo più o meno. Le lingue più diffuse sul continente sono nove. Il russo, il tedesco, il francese, l'inglese e l'italiano, lo spagnolo, l'ucraino, il polacco e il romeno. L'italiano, ad esempio, è la lingua ufficiale dell'Italia, ma è parlato anche in Svizzera, bisogna fare attenzione. Il tedesco non è parlato solo in Germania, ma anche in Austria, e in Trentino Alto Adige, in Svizzera. Quindi, non tutte le lingue coincidono con uno Stato. Ad esempio, un altro esempio classico, in Francia ovviamente si parla il francese, ma non è l'unico paese al mondo in cui si parla il francese. C'è la regione del Quebec, in Canada, c'è la Martinica francese, la Guyana, insomma, tutte le ex colonie francesi. Le famiglie linguistiche. Le nove lingue che abbiamo visto, queste qui, quelle più diffuse, hanno delle somiglianze. Hanno delle somiglianze con che cosa? con una lingua che si parla in Iran e una lingua che si parla in India. Eh, in Iran si parla il farsi e in India si parla l'indi. E allora, gli studiosi, che si chiamano linguisti, hanno cominciato a fare del... a farsi delle domande, a fare delle supposizioni. ma come mai il farsi e l'indi sono simili, per alcune parole, per alcune strutture grammaticali, all'italiano, al francese, allo spagnolo? Come mai ci sono queste somiglianze? non è che magari tutte discendono da un antenato comune? In effetti, si è provato a fare delle indagini e a quanto pare questo antenato in comune è esistito. Era una lingua che si chiamava lingua indoeuropea, che era la lingua parlata 5.000 anni fa in Europa, dalle prime popolazioni, che poi si sono divise e hanno dato luogo al latino, alle lingue germaniche, al celtico, allo slavo, all'albanese, eccetera, eccetera. Vediamo un po' quali sono le parole simili. Allora, vediamo un po', scusate, ingrandisco. Allora, ecco, spero che lo vediate ragazzi. Questo qui, il terzo millennio a.C., quindi 5.000 anni fa, vedete, si immagina, si pensa, che esistesse una popolazione che si chiamava indoeuropea, che poi, mano a mano, vedete, con queste frecce, si è spostata dove in Francia, ecco, i Galli, in Britannia, quindi nel Regno Unito con i Britanni, e poi i Piceni, gli Etruschi, gli Albanesi, i Greci, eccetera, eccetera. Tutti noi, oggi, in questa zona qui, parliamo delle lingue, l'italiano, lo spagnolo, il francese, il tedesco, che sono le discendenti, e le nipoti, le pronipoti, di questa lingua qui, l'indo-europeo. Vediamo qualche parola l'indo-europeo. Allora, allarghiamo un po'. Ecco. Ad esempio, il nem, che noi chiamiamo nome, eh, in greco è onoma, in latino è nomen, in inglese, ovviamente, name. NER, in europeo suonava così, NER, noi lo chiamiamo uomo, però, in greco, ANER, ANDROS, lo sapete cosa vuol dire, ANDROS, ANTROPOS, vuol dire uomo, eh. Il PETER, che noi oggi chiamiamo padre, ma, in, in, oh signor, in greco era PATER, in latino PATER, in inglese FATER, in tedesco VATER, eh. METER la stessa cosa, diventa in greco METER, in latino MATER, è la nostra madre, eh, in inglese MUTTER, eh, come BROTHER, questo qui è BRETER, che diventa fratello, BROTHER, in, 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 in inglese, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre parole, è guardate, sorella, eh, figlia, eh, cuore, aurora, lupo e cervo, e poi c'era anche, ecco il topo, MUS, il topo che diventa il nostro mouse, eh, il mouse che usiamo con il computer, ok. Il cane, KVON diventa KANIS. Bene, eh, sì, penso che fosse tutto quello che mi interessa. Quindi, c'era questa lingua indoeuropea, che ha dato origine a queste lingue qui. Quali sono? Le lingue slave, il russo, l'ucraino e il polacco. Eccolo qui, russo, ucraino e polacco. Tutte figlie dell'indo europeo, eh. Poi, le neolatine, le nostre, francese, italiano, spagnolo, romeno. Eccolo qui, romeno, italiano, francese e spagnolo. E poi, le lingue germaniche, inglese e tedesco, queste qui verdi, hm, che sono tutte indoeuropee, ok. Poi ci sono delle altre famiglie, un po' strane, molto strane, ad esempio, l'ugrofinnico, che non è indoeuropeo, che si parla qui, in Finlandia, in questa regione della Siberia. E poi, il turcomongolo, che è un'altra famiglia linguistica, delle steppe asiatiche, che poi hanno portato ai turchi, i turchi che hanno invaso l'impero ottomano. All'origine delle lingue, ah, scusate, non abbiamo letto la fine. Esistono poi altre famiglie linguistiche, come lingue baltiche, il letto nel lituano, che sono queste qui rosa, celtiche, queste qui, gaelico-scozzese, le ugrofinni, che di cui abbiamo già parlato, e poi il greco, l'albanese, il basco, e il turco. All'origine delle lingue, beh, come mai in Spagna si parla lo spagnolo, in Germania si parla il tedesco? Fanno parte della famiglia linguistica neolatina, perché gli antichi romani, che parlavano latino, dominarono lungo la Spagna, la Francia, la Romania, e ovviamente l'Italia. Quindi noi, in Spagna, in Italia, in Francia, in Romania, parliamo queste lingue, perché abbiamo avuto l'impero romano per mille anni, più di mille anni, quindi si parlava latino, e adesso parliamo delle evoluzioni del latino, lo vedremo poi meglio l'anno prossimo, quando faremo la storia della lingua italiana. I romani hanno dominato anche il Regno Unito, l'Inghilterra, però poi l'Inghilterra è stata invasa da una popolazione di stirpe germanica, e quindi si parla l'inglese, che è molto parente del tedesco, e molto meno che dell'italiano. Qui c'è uno specchietto che ci parla dei dialetti, che cosa sono i dialetti? sono delle lingue vere e proprie, che sono parlati a livello regionale o locale, è il dialetto valsesiano piuttosto che il dialetto sardo, per molto tempo non sono state considerate delle vere lingue perché non avevano una grammatica, come l'italiano e il francese, non avevano un vocabolario, non avevano opere letterarie, come nessuno ha mai scritto la Divina Commedia in valsesiano o in sardo, e quindi sono state un po' snobbate, un po' messe da parte per quello. Gruppi etnici e nazioni europee. Che cos'è un gruppo etnico? È un gruppo di esseri umani che si riconoscono l'un l'altro, cioè che dicono siamo tutti noi, noi italiani, noi francesi, noi tedeschi, siamo membri di un unico popolo perché? Perché abbiamo la stessa lingua e pensiamo a noi italiani. Siamo italiani perché? Perché parliamo tutti italiani. Abbiamo tutti la stessa religione, più o meno, poi lo vedremo, comunque tendenzialmente la maggioranza è di religione cattolica. E poi alcuni elementi culturali, ad esempio a tutti piace la pasta asciutta, tutti noi, anche a chi non piace, abbiamo visto almeno una partita di calcio, sappiamo cos'è. tutte queste cose rendono un gruppo umano appartenente a un'unica entità etnica. Ok? Noi francesi, noi italiani, perché ci chiamiamo così? Perché abbiamo la stessa lingua, la stessa religione, ci piace lo stesso cibo, ci piace lo stesso sport, abbiamo la stessa storia e quindi tutti gli italiani sanno chi era Garibaldi, chi era Dante, chi era Giulio Cesare. Ok? Se andiamo negli Stati Uniti e facciamo le stesse domande, chi era Gaddante, Garibaldi, Giulio Cesare, pochissimi ci risponderanno. Molti non lo sanno, loro sanno che cosa, chi era Thomas Jefferson, chi era, non lo so, il grande campione di baseball degli Yankees, che ne so io, ma chi era Garibaldi, no. un gruppo etnico molto numeroso, fatto di milioni di persone, è una nazione. In Europa vi sono nove principali nazioni corrispondenti alle lingue più parlate. Vi sono anche delle minoranze etniche, ad esempio i baschi, gli scozzesi, i sardi, i ladini, i tartari, che sono gruppi più piccoli, prendiamo ad esempio i sardi, o i baschi, ecco, prendiamo i baschi, che è più facile. I baschi sono una popolazione che vive qui, vedete, nel nord della Spagna. I baschi sono spagnoli più o meno, nel senso che parlano spagnolo, sì, però parlano anche una lingua tutta l'ora che è basco. Hanno le stesse, la stessa storia della Spagna, sì, però hanno una storia locale molto ricca, che è appunto la storia di questa regione qui, i paesi baschi. E allora si sentono un po' come degli ospiti dentro lo Stato spagnolo, un po' come essere, non lo so, un italiano che vive a Little Italy a New York. E ospite ci sta bene, più o meno, però non è proprio di New York. È uno che è arrivato lì, che ha un'altra lingua, un'altra cultura, eccetera, eccetera. Queste minoranze etniche, vedete, ci sono i baschi, ci sono i ladini, qui c'è un po' di comunità albanesi, qui ci sono i fiamminghi, qui ci sono gli scozzesi, ecco. Tutte queste piccole minoranze etniche in Europa, dopo un po' di problemi dei secoli scorsi, vivono in tranquillità, in pace, integrate, abbastanza integrate, diciamo, negli stati che le ospitano. Poi ogni tanto, ad esempio, i baschi, due o tre anni fa, hanno fatto un referendum per uscire dalla Spagna e diventare un paese indipendente, come se fosse, non lo so, la Grecia. Poi il referendum è fallito, però ogni tanto ci si prova, qualcuno almeno ci prova. Ecco, veniamo a due concetti fondamentali, allora. Che cos'è una nazione, che cos'è uno Stato? Sono due domande che vi farò fino alla fine della terza media, quindi vi conviene impararle subito. La nazione che cos'è? La nazione, abbiamo detto, è un insieme di individui che parlano la stessa lingua, hanno la stessa storia e le stesse tradizioni. Noi italiani siamo una nazione perché, ripeto, parliamo tutti italiano, mangiamo tutti gli spaghetti col pomodoro, abbiamo tutti il crocifisso almeno nelle aula scolastica se non in casa, perché abbiamo visto tutti la partita di calcio, perché sappiamo tutti chi era Garibaldi, chi era Giulio Cesare, chi era Dante. Ok? Che cos'è una nazione? Allora, è un gruppo di persone. che è nella testa ha queste idee qui. La lingua, gli spaghetti, il calcio, Dante, eccetera, eccetera. C'è differenza fra nazione e stato? Certo che c'è differenza. Enorme. La nazione è fatta dalle persone. Lo stato invece che cos'è? Lo stato è un'entità, chiamiamola così per il momento, fatta da un territorio. Cioè, tu per essere uno stato, riprendiamo la cartina, vedete, l'Italia è uno stato, certo, ha un territorio, come no, questo qui giallo, ha dei confini, sì, questi qui azzurri, confina col mare, e questi qui rossi, dove, oltre i quali, comincia un altro stato, la Francia, la Svizzera, l'Austria. Ok? Quindi, questo è lo stato italiano, vedete, ha un territorio, ha dei confini, dentro i confini, che cos'ha? Una popolazione, secondo punto, scrivetele, queste cose, lo stato è fatto da un territorio, con dei confini, da una popolazione, che io ho chiamato nazione, dentro lo stato italiano, che nazione c'è? Gli italiani, la nazione italiana. Ma non basta, non basta avere un campo di gioco, e 22 giocatori dentro, come il calcio. La terza cosa che serve, se ci pensate, proprio come una partita di calcio, servono le regole. Come fanno i calciatori a giocare? Secondo delle regole. Come facciamo noi italiani a vivere in Italia? Seguendo delle regole. Queste regole quali sono? Le leggi, innanzitutto. È vietato rubare, è vietato uccidere, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle istituzioni, che scrivono queste leggi, e le fanno funzionare. Ad esempio, il comune. Se io sono un cittadino italiano, ma anche non italiano, e vivo a Varallo, e devo fare, che ne so, un garage nel mio cortile, cosa faccio? Non faccio che farlo scavo, prendo quattro mattoni e faccio un garage. Devo seguire queste, le regole. E quindi andrò in municipio, in comune, prenderò il regolamento edilizio, seguirò tutte le regole, e alla fine potrò, senza dover subire una multa, un processo per abuso edilizio, fare il mio garage, seguendo le regole. Ok? Ripeto allora ragazzi, nazione e stato. La nazione è un gruppo di persone. che parla la stessa lingua, la stessa religione, la stessa cultura. Lo Stato che cos'è? È il modo in cui una nazione si organizza su un territorio. Lo Stato deve avere allora il territorio, una popolazione, e delle regole. Se fate l'analogia col campo di calcio, è più chiaro. Che cos'è una nazione? Una nazione è una squadra. Diciamo la Juventus. La Juventus è una nazione, perché hanno la stessa maglietta, parlano la stessa lingua, hanno la stessa cultura, Juve, 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 eccetera, eccetera. Una nazione poi ha bisogno di un territorio, e quindi scende nel campo da calcio. Lì incontra delle altre persone, diciamo che fanno parte della stessa nazione, quindi abbiamo un territorio, il campo da calcio, e 22 persone che ci vivono dentro, per quel momento lì. come si rapportano, come si comportano, come giocano queste persone dentro il campo da calcio, seguendo delle regole, che sono poi impressionate dall'arbitro, e dai guardialini, che sono quelli che devono farle applicare. Lo Stato è la stessa cosa. L'Italia è una penisola dell'Europa a forma di stivale, quindi il suo territorio qui, con 60 milioni di giocatori, che rappresentano la nazione italiana, più o meno, e che devono seguire delle regole. Le regole vengono scritte dal Parlamento, dalle regioni, dai comuni, e vengono fatte applicare dal Vigile Urbano, dal Poliziotto, dal Carabiniere, dal Giudice. Ok? Insisto un po', un po' tanto, mi rendo conto su questi due concetti, perché sono fondamentali, nazioni e stati. Poi è vero che ci sono, come ci ricorda il nostro libro, nazioni senza stati. Ad esempio i baschi. Abbiamo parlato prima, l'abbiamo qui. I baschi sono una nazione, ma non hanno uno Stato basco. Sono ospiti dello Stato spagnolo. Ok? Ah, vi sottolineo, ragazzi, questa macchia rossa-arancione qui. Questi sono i kurdi. Ve la sottolineo perché se ne parla da molti anni, da un secolo ormai, e se ne parlerà sempre di più, temo. I kurdi sono una grande nazione, fatta proprio di milioni di persone, ma che non ha uno Stato. Vedete che sono ospitati tra la Turchia, poi continuano anche qui, Iran, Iraq e Siria. Farebbero una macchia arancione qui. E sono stati lungamente perseguitati, anche adesso, mentre noi oggi parliamo, c'è una guerra in atto contro il popolo kurdo, che è una nazione, ma non ha uno Stato. E gli Stati che li ospitano si comportano in modo molto aggressivo nei loro confronti. Ok? Faccio solo un esempio. In Turchia, se ti trovano in un parco, in un parco cittadino, su una panchina, che ascolti con le cuffiette una canzone in lingua kurda, ti prendono, ti mettono in galera. Per qualche anno. Per capire l'aria che tira in certe zone vicine a noi. Bene, fate pure una pausa, ragazzi, perché la seconda parte è abbastanza densa. Sospendiamo un attimo, sospendete anche voi, tirate un po' il fiato. Bene, ragazzi, rieccoci a noi. Allora, adesso parleremo della demografia. Che cos'è la demografia? È lo studio delle popolazioni da un punto di vista numerico e quantitativo. Se scomponiamo la parola abbiamo demos, e grafos. Demos lo sappiamo, significa popolo, gente, è la democrazia, il potere del popolo. Demografia è la grafia, cioè lo studio, la scrittura, quindi lo studio, riguardo al demos, al popolo. La popolazione da un punto di vista numerico è quantitativo. Cioè, quali domande ci dobbiamo porre? Quante persone formano quella popolazione? Se parliamo dell'Italia, quanti sono gli italiani, meno i residenti in Italia? Perché poi ci sono quelli che risiedono in Italia ma non hanno il passaporto italiano, gli italiani che risiedono magari in Cina e quindi non vengono conteggiati. però grossolanamente diciamo quanti abitano in Italia? Come sono disposti nel territorio? Cioè, ce ne sono più a Milano o più in Valsese? Qual è la loro età? Sono mediamente giovani o vecchi? Quanti sono gli uomini e quante le donne? Quanti bambini nascono? Quante persone muoiono? Qual è l'età media? Ogni anno la popolazione aumenta o diminuisce? Queste sono un po' le domande che ci facciamo. diamo un'occhiata a questa cartina. Questa è una cartina, è un cartogramma tipicamente demografico perché ci parla della densità di popolazione. Che cos'è la densità di popolazione? È la quantità di persone che vive in un chilometro quadrato. Se io prendo una cartina e traccio un quadrato di un chilometro per lato e conto quanti abitanti vivono dentro quel chilometro, ho la densità della popolazione. Vedete, in Italia la densità della popolazione è molto variegata. Abbiamo zone molto popolose, vedete, in rosso scuro, più di 200 abitanti per chilometro quadrato. Milano, Torino, tutta la pianura padana e poi Roma, Napoli. E poi abbiamo zone abbastanza spopolate, da 11 a 50 abitanti o anche meno di 10. L'acqua alpino, ovviamente in cima al Monte Rosa ci sono meno di 10 persone per chilometro quadrato. Magari ce n'è una o due o non ce n'è nessuno. E poi anche in queste zone qui un po' più naturali ancora. E allora il libro ce lo spiega più nel dettaglio. In Europa innanzitutto vivono quasi 720 milioni di abitanti. Però l'Europa considera tutta sta roba qui. Fino qui. Forse anche un Mosca compresa. Diciamo fino ai monti Urali che stanno qui. Se invece guardiamo l'Europa nostra, l'Unione Europea, quella che con gli euro in tasca, che siamo oramai 27 stati perché la Gran Bretagna se n'è andata, ha fatto la Brexit l'anno scorso, siamo circa 446 milioni di abitanti. Come si fa a fare la densità abitativa media? Si prende il numero degli abitanti, 718 milioni 700 mila abitanti, lo dividiamo per il numero dei chilometri quadrati del continente e abbiamo 70,6 abitanti per chilometro quadrato medio. Quindi l'Europa è un continente molto popolato. 70 non ci sembra molto alto come dato, però ricordiamoci che è un valore medio. Andiamo dalle zone del centro della Spagna dove abbiamo 20 persone per chilometro quadrato alla regione della Rure o comunque il nord Europa dove abbiamo densità abitative altissime. Io ve ne ho segnate una qui. Ad esempio Berlino ha circa pensate un po' 4.000 abitanti per chilometro quadrato. Poi se vi chiedete come fanno a starci facile, hanno costruito i condomini. Li hanno messi uno sull'altro. A Roma è un po' più bassa circa 2.200 abitanti per chilometro quadrato. Vi ho segnato però di fianco un dato interessante. Napoli ha delle densità abitative più alte del mondo. 8.137 abitanti per chilometro quadrato. Lì non soltanto sono uno sull'altro nei condomini ma hanno anche appartamenti molto stretti dove vivono 4 o 5 persone. Come varia la densità della popolazione? Allora possiamo dividere la popolazione europea in tre grandi aree. Un'area molto popolosa che è questa qui noi siamo qui un'area mediamente popolosa dove ci sono tante persone ma anche tanta campagna non so l'Austria la Francia dove vai a Parigi saranno 4.000 abitanti di fenomeno quadrato ma la campagna francese non ci abita quasi nessuno e poi quelli poco popolosi come la Bielorussia che è enorme o la Finlandia la Norvegia in cui sono abitate soltanto alcune grandi città. Qui sopra ragazzi vi ho segnato due cosine da tenere a mente riguardo alla popolazione alla demografia scrivetevele ragazzi tasso di natalità è la fotocopia tagliata un po' che cos'è il tasso di natalità? lo dice la parola stessa sono i bambini nati vivi ogni anno ogni mille abitanti se io ho un tasso di natalità del 5 per mille vuol dire che se prendo mille italiani ogni anno nasceranno 5 bambini ok? e quindi l'anno prossimo saranno mille più 5 però ovviamente c'è l'altro lato della medaglia qual è il tasso di mortalità? infatti il tasso di mortalità sono i morti in un anno ogni mille abitanti con questi due dati posso ricavare un terzo dato che è il saldo naturale cioè i nati meno i morti anche qui la tagliata assegnate meno morti che cosa vuol dire? facciamo l'esempio di Varallo ragazzi non lo so 5.000 abitanti sono un po' di più ma facciamo diciamo 10.000 abitanti ecco così facciamo un numero rotondo diciamo che ogni anno nascono 100 bambini quindi la popolazione aumenta perché se quest'anno siamo in 10.000 l'anno prossimo saremo 10.000 più 100 e quindi il tasso di natalità è 100.000 l'1% che è un tasso di natalità alto però Varallo è una popolazione molto anziana e quindi c'è un tasso di mortalità molto alto che può essere magari di 80 eh nascono 100 bambini e muoiono 80 anziani in un anno qual è il saldo naturale allora devo fare 100 bambini nati meno 80 anziani possibilmente morti uguale più 20 io ho un saldo naturale allora positivo Varallo tutti gli anni guadagna circa 20 abitanti eh sono nati in 100 sono morti 80 la differenza sono quelli che comunque mi rimangono Varallo però non ha questa situazione qui ha una situazione negativa in cui ci sono 100 bambini nati ma abbiamo 130 140 anziani morti proprio perché come abbiamo visto prima la popolazione europea è una popolazione molto anziana e allora diciamo che abbiamo i soliti 100 bambini nati e 150 anziani morti abbiamo allora dobbiamo fare 100 meno 150 uguale meno 50 il saldo naturale quindi sarà di meno 50 abitanti ogni anno vuol dire che quest'anno siamo in 10.000 l'anno prossimo saremo in 9.950 da due anni 9.900 e piano piano se non interviene un cambiamento di tendenza Varallo sparerà eh andiamo a vedere quale può essere il cambiamento di tendenza che in effetti ha evitato che sparissero alcuni centri alcuni paesini da noi le migrazioni ovviamente comincio a anticiparvelo poi dopo lo spieghiamo meglio ovviamente se abbiamo a Varallo 100 nuovi nati 150 morti abbiamo detto abbiamo un saldo naturale di meno 50 però abbiamo anche 60 ragazzi e ragazze immigrati che vengono a Varallo per cercare lavoro andare a scuola eccetera eccetera è vero che noi abbiamo perso 50 Varallesi ma abbiamo guadagnato comunque 60 nuovi Varallesi che hanno preso la casa che si mettono a lavorare mandano i figli a scuola eccetera eccetera quindi il saldo naturale sarà il saldo demografico diciamo che sarà alla fine più 10 eh perché io avevo 100 nuovi nati 150 morti quindi meno 50 abitanti in un anno però sono arrivati 60 immigrati quindi io ho perso 50 varallesi ma ho guadagnato 60 nuovi varallesi quindi il saldo è più 10 Varallo è stabile o comunque cresce un pochino me li sono inventati questi dati ragazzi completamente però più o meno finora abbiamo incontrato due delle principali caratteristiche demografiche dell'Europa quali? abbiamo visti l'alta densità abitativa quindi tanti abitanti e molto anziani adesso dobbiamo guardare cosa succede con il terzo fattore importantissimo l'immigrazione ogni anno infatti centinaia di migliaia di persone originarie dell'Africa dell'Asia ma non solo anche dagli Stati Uniti eccetera arrivano in Europa per cercare nuove opportunità di lavoro o per sfuggire alla povertà e alla violenza l'Unione Europea è uno dei principali punti di arrivo mondiali dell'immigrazione perché questi migranti lasciano la terra d'origine perché molti sono migranti volontari chiamati anche migranti economici persone che muoiono di fame a casa loro o comunque che fanno una vita pessima che si mettono in viaggio per migliorare le proprie condizioni esattamente come hanno sempre fatto gli italiani e come continuano a fare perché in Italia non c'era lavoro si moriva di fame ad esempio cento anni fa cento trenta anni fa e c'è stata una grandissima ondata di emigrazione cioè italiani che lasciano l'Italia per andare negli Stati Uniti in Australia in Sud America a cercare fortuna lavoro un miglioramento delle proprie condizioni di vita per sé e per i loro familiari quindi questi sono i migranti economici persone che vogliono migliorare la propria situazione economica e non solo poi ci sono i migranti che proprio non possono scegliere se scappare o non scappare da casa loro devono per forza scappare perché sono rifugiati che scappano dalle guerre o anche dalle persecuzioni etniche io sono un bianco in un paese di neri magari mi vogliono fare la pelle io sono un nero in un paese di bianchi la stessa cosa qui abbiamo un'immagine delle tante che conosciamo migranti africani che sbarcano sulle coste italiane poi diremo due parole su questo fenomeno migratorio in Italia perché arrivano in Europa perché proprio in Europa tanti si chiedono ma sì ma perché proprio qui perché i paesi europei hanno un'economia sviluppata e diversificata ci sono lavori e ricchezza perché uno deve scappare da un paese povero per andare in un altro paese povero se scappa andrà da un paese ricco i paesi più ricchi sono quelli europei chiaramente inoltre gli europei l'abbiamo visto sono mediamente molto vecchi molto anziani e quindi c'è un gran bisogno di giovani che facciano i lavori manuali nell'edilizia nell'agricoltura nell'assistenza gli infermieri eccetera eccetera noi ragazzi se ci pensate bene l'abbiamo già visto questo fenomeno cosa succede quando un impero ricco mediamente anziano entra a contatto per decenni e poi per secoli con popoli giovani e poveri viene in mente niente l'impero romano l'impero romano che si espande si espande si espande e poi termina l'espansione sul fiume Reno e dall'altra parte del Reno ci sono popolazioni germaniche che sono giovani sono povere e sono disposte a fare qualunque cosa per poter migliorare la propria condizione e vi ricordate addirittura attraversano il Reno invadono migrano loro direbbero migrano dentro l'impero romano e all'impero romano fa un gran bene questa cosa perché per secoli riescono a gestirla all'immigrazione e mettono questi nuovi cittadini romani nell'esercito o a popolare territori paludosi o comunque spopolati magari da pestilenze da epidemie e quindi la fortuna dell'imperatore romano era proprio quella di riuscire a prendere a convincere questi nuovi migranti a venire dentro l'impero romano poi abbiamo visto che il fenomeno migratorio gli scappa di mano e succede quello che succede fino al 476 quando viene destituito l'ultimo imperatore romano Romolo Augustolo infatti ve l'ho segnato qui ragazzi di fianco segnatelo anche voi impero romano poi perché ripetiamo diciamo ancora vengono in Europa perché in Europa c'è la democrazia e quindi nessuno ti tortura nessuno ti ammazza per strada nessuno ti sfonda la porta di casa mentre stai dormendo per farti sparire non è una piccola cosa in quasi tutti i paesi europei ci sono servizi molto importanti come l'istruzione le cure mediche il sussidio di disoccupazione la pensione eccetera eccetera le università sono fra migliori del mondo e costano relativamente poco poi se dobbiamo fare un discorso completo possiamo anche dire che molti migranti scappano dalle loro case dai loro paesi perché i loro paesi sono stati resi invivibili a causa di guerra o di disastri naturali molto spesso provocati dagli europei faccio un esempio Nigeria a Nigeria è un paese in Africa centrafica è un paese ricchissimo di petrolio uno dovrebbe pensare vabbè a Nigeria ci saranno le Ferrari le Mercedes le Lamborghini che girano le usano per andare a fare la spesa neanche per sogno in Nigeria c'è una grandissima povertà tutto il petrolio estratto viene portato via mandato in Europa e negli Stati Uniti ai nigeriani restano soltanto le briciole e resta l'inquinamento resta un grandissimo inquinamento le falde acquifere la pesca eccetera tutto compromesso si ammalano e per non ammalarsi per scappare da questa situazione che non offre né lavoro né istruzione né altro vengono in Europa ma è colpa loro è colpa magari dell'industria europea che per tanti anni ha fatto tutto quello che ha fatto in Nigeria come in tante altre parti del mondo dell'Africa soprattutto bene cioè insomma ecco altro concetto fondamentale della demografia immigrati sono quelli che arrivano in Italia in Europa gli immigrati sono quelli che partono se in un anno mi arrivano a Varallo 60 immigrati dal Congo dalla Svizzera dalla Russia da dove vi pare quindi arrivano 60 nuovi varallesi e vanno via 50 varallesi perché magari vanno a lavorare a Londra vanno a New York sono sposati con un cittadino greco che ne so io qual è il saldo migratorio? 60 meno 50 uguale più 10 comunque Varallo ha guadagnato abitanti se invece la situazione si capovolge e allora a Varallo abbiamo 50 immigrati ma abbiamo 70 giovani varallesi che non trovano lavoro a Varallo e che vanno all'estero a cercare un nuovo lavoro migliore sono migranti economici anche loro anche se prendono l'aereo e non prendono il barcone allora facciamo lo stesso conto 50 nuovi immigrati meno 70 emigrati varallesi uguale meno 20 vuol dire che Varallo perde 20 abitanti in quell'anno lì ok nel 2013 vabbè abbiamo ospitato 440.000 rifugiati molti di più degli anni successivi perché perché ci sono molte più guerre negli ultimi anni negli ultimi anni ci sono molte più guerre soprattutto in nord africa in medio oriente e quindi queste persone che starebbero benissimo a casa loro se potessero stare a casa loro a casa loro li hanno bombardata e quindi cercano nella fuga di arrivare in un paese migliore dove poter vivere poi c'è il fenomeno degli sbarchi ma ne parleremo poi in modo più approfondito certo certo che tutta questa immigrazione in Europa che ripeto ragazzi l'immigrazione ha fatto la fortuna europea perché ha dato milioni milioni di braccia giovani che si accontentavano in una paga bassissima e le ha messe a lavorare dove? nei campi nell'edilizia nella cura delle persone se oggi noi mandassimo via tutti gli immigrati dall'Italia domani nessuno raccoglierebbe più pomodori nessuno farebbe più assistenza agli anziani nessuno farebbe più le pulizie nessuno ma riuscirebbe più a mandare avanti un cantiere perché molto spesso anche nei cantieri edilizi gli immigrati sono molto frequenti sono molto utilizzati sono molto impiegati e allora l'immigrazione come per l'impero romano è stata una manna dal cielo una grande fortuna per l'Europa fino a quando l'ha gestita negli ultimi anni l'immigrazione è aumentata a causa appunto di queste guerre nel nord africa e in medio oriente e questo ha e lo sapete benissimo perché si vede anche da noi in Valsesia ha avuto come conseguenza questa parolona qui xenofobia eh anche questa parola greca deriva da xenos che significa straniero e fobia da phobos che significa paura la paura dello straniero eh lo straniero che viene qui ci ruba il lavoro ci ruba le case popolari lo straniero che ovviamente è l'uomo nero che ci vuole mangiare io scherzo ragazzi ma non più di tanto vediamo ecco qui vi ho trovato una mappa concettuale fatta abbastanza bene che cos'è la demografia studia le caratteristiche della popolazione che cos'è la popolazione a che cosa serve la demografia per conoscere il numero degli abitanti di un territorio se sono anziani se sono giovani se sono uomini se sono donne e questo a cosa serve per capire lo stato cosa deve fare che politiche deve mettere in atto se ho una popolazione molto giovane vuol dire che io dovrò costruire scuole se io ho una popolazione molto anziana vuol dire che dovrò costruire ospedali e case di riposo semplicemente la demografia poi mi ho messo qui tasso di natalità tasso di mortalità che danno il saldo naturale la differenza fra nati e morti e poi l'immigrazione e l'emigrazione che ci dà il saldo migratorio se 100 vanno via e 150 arrivano vuol dire che il saldo migratorio è più 50 ok vi mostro ad esempio questa mappa qui è il tasso di crescita demografica quanti bambini si fanno ogni 1000 abitanti vedete che l'Europa vive il suo inverno demografico l'unica che si salva è la Francia che ha più dell'1% di nuovi nati di bambini che nascono mentre l'Italia la Germania eccetera eccetera sono in fase 0 non si cresce non si diminuisce in realtà poi l'Italia diminuisce perché tutti gli anni oltre agli anziani che muoiono abbiamo anche i giovani che scappano dall'Italia per cercare lavoro all'estero e quindi quando tu ogni anno hai 300-400 mila giovani molto spesso diplomati laureati che non trovano lavoro vicino a casa devono andare a Londra a Parigi a New York a Madrid ad Amsterdam a lavorare il saldo migratorio il saldo demografico totale ne risente infatti l'Italia perde popolazione infatti ve lo ve lo giro poi a questo materiale se diamo un'occhiata al 2017 quello più aggiornato che ho trovato andiamo un po' questo è riguardo riguarda soltanto l'Italia allora innanzitutto nati vivi 464 mila bambini questo qui è il il saldo il il tasso di natalità poi l'età media 45 anni è una popolazione sempre più vecchia solo il 13% degli italiani di questi 60 noi siamo questi qui 60 milioni e mezzo di italiani solo il 13% alla vostra età meno di 14 anni il 27 fino ai 40 anni 37 però vedete che il 20% e passa a oltre 65 anni poi questo lo lasciamo stare ecco gli immigrati per area geografica allora nel nord il 6,4% della popolazione è immigrata al centro il 6% e nel sud Italia che si chiama anche mezzogiorno visto che c'è meno lavoro e meno possibilità sono solo il 4% poi la speranza di vita anche questo è importante si vive tanto o si vive poco in Italia si vive tantissimo è uno dei paesi in cui si vive di più gli uomini 80 anni e mezzo cioè se io nasco oggi se tutto va bene se non mi arriva un vaso di fiori in testa penso di poter vivere fino a 80 anni se sono un maschietto e quasi 85 se sono una donna come mai le donne vivono quasi 5 anni 4 anni e mezzo in più degli uomini perché innanzitutto hanno stili di vita più sani di solito non bevono non fumano non svolgono lavori pericolosi non fanno non cambiano le tegole sui tetti quindi è difficile che possano cadere dal tetto e in più hanno un sistema immunitario più resistente di quello maschile e quindi se la cavano meglio e si curano di più e quindi ecco spiegata la maggiore età media delle donne i deceduti guardate un po' 647 mila vi ricordo che i nuovi nati sono 464 mila i deceduti 647 quindi insomma 200 mila in più i morti rispetto ai nuovi nati il saldo naturale vedete che qui ce lo segna è meno 183 mila proprio la differenza fra il numero di nati e il numero dei morti ci ricorda anche che gli italiani col passaporto italiano sono 55 milioni e gli stranieri che non hanno il passaporto italiano quindi sono 5 milioni in totale in totale però contando i nuovi nati i morti gli immigrati che arrivano e gli emigrati italiani che partono abbiamo un'Italia che nel 2017 ha perso in totale alla fine di saldo migratorio di saldo demografico quasi 100 mila abitanti mi ricordo che l'anno scorso avevo letto una statistica un po' di tempo fa l'anno scorso erano molti di più erano oltre 300 mila abbiamo perso 300 mila abitanti l'anno scorso anche gli immigrati ne arrivano pochi perché c'è la crisi economica e perché l'Italia non è più molto attrattiva se uno emigra dalla Libia cerca di andare non so in Francia in Germania dove c'è più lavoro rispetto che l'Italia poi andiamo avanti ragazzi vedete 5 milioni di immigrati in Italia in Germania sono 8,7 milioni questa questa pagina qui che è pagina 164 e 65 la saltiamo perché tanto la faremo in modo più approfondito all'inizio della seconda media quando faremo la storia della lingua italiana e adesso facciamo l'ultimo capitoletto sulle religioni le religioni più diffuse poi vi ho segnato qualche dato poi ve ne parlo le religioni principali in Europa lo sapete benissimo sono il cristianesimo e gli Islam il cristianesimo perché da 2000 anni che c'è diviso in cattolici Italia Francia Spagna protestanti Francia protestanti quindi Nord Europa Germania Belgio eccetera eccetera e ortodossi che sono i greci e le altre le altre popolazioni slave quindi la Russia eccetera eccetera ovviamente è in crescita di Islam che è diventata la seconda religione europea perché gli immigrati islamici sono numerosi che cosa significa Islam Islam significa totale sottomissione a Dio musulmano è tutto ciò che ha a che fare con l'Islam parola importante da ricordare cosa significa secolarizzato secolarizzato dal latino seculum indica tutto ciò che è separato dal contenuto religioso quindi quello che non ha a che fare con la religione se io vedo una chiesa è un edificio religioso se io vedo il municipio è un edificio secolare cioè non ha a che fare con la chiesa questa mappa è interessante ci mostra un po' la distribuzione quindi quelli arancioni sono i cattolici quelli in giallino sono i protestanti quelli in rosa sono gli ortodossi questi sono gli islamici e queste mezzelune sono le importanti comunità islamiche in Europa qui nel nord Italia nella regione di Parigi la regione di Londra e qui nel Berlino e nel nord Europa ok il cattolicesimo il protestantesimo vabbè ve li leggete non è niente di che quando si parla delle religioni però io mi preoccupo sempre un po' perché si tende a non parlare di chi non è religioso come se non esistesse come se non fosse un cittadino allora ve l'ho segnato qui la percentuale degli agnostici e la percentuale degli atei adesso lo spieghiamo brevemente agnostico colui che non sa cioè si dichiara agnostica una persona che dice ma io non lo so se Dio esiste oppure no e non ho nemmeno i mezzi per scoprirlo dicono che si è in cielo ma io non ho un razzo per andare abbastanza in alto e controllare se effettivamente c'è e quindi è una domanda di cui io non posso conoscere la risposta e quindi non mi non do nessuna risposta di fronte alla domanda Dio esiste io rispondo non lo so sei religioso? no non lo so sono agnostico nel senso che non lo so se esiste un Dio non lo so se è quello degli ebrei o quello degli musulmani o quello dei cristiani o quello di qualche tribù in Papua o Nuova Guinea non lo so e quindi io non dico di essere ateo di non credere a niente forse credo a qualcosa o forse no non ho le prove per stabilirlo non ho le prove per dare una risposta definitiva gli agnostici sono una bella fetta nel mondo sono il 23% della popolazione e in Europa addirittura il 26% quelli che non sono cattolici né protestanti né musulmani né atei quelli che dicono ma io non lo so se esiste Dio non posso dare una risposta definitiva quindi non mi esprimo magari sì magari no non ho le prove e poi ci sono gli atei che invece sono convinti che Dio non esiste anche loro non hanno le prove o me vabbè è un discorso complicato comunque nel mondo ci sono 13% della popolazione mondiale che dice che Dio non esiste nessun tipo di Dio di divinità e addirittura il 20% in Europa ok quindi questi sono sondaggi ragazzi prendeteli un po' con le molle però ci danno comunque un'indicazione circa il se noi facciamo la somma tra gli atei che sono nel mondo il 13% più gli agnostici sono il 36% quindi più di un terzo della popolazione mondiale che non è né cattolica né protestante né musulmana né confuciana né buddista né altro non crede in nessuna divinità o al massimo dice io non lo so se esiste poi andiamo avanti cristianesimo ortodosso è questo qui della della Grecia e della dell'Europa orientale poi l'Islam vabbè lo sapete poi avete fatto immagino storie delle religioni durante l'ora di religione quindi non ve le devo spiegare io ovviamente la convivenza tra queste persone che hanno religioni diverse ogni tanto può creare degli attriti può creare delle incomprensioni può creare delle tensioni non ve lo devo raccontare abbiamo visto un po' di persecuzioni religiosi in Europa nell'Europa alto e medievale contro gli ebrei e poi contro gli eretici e poi tra un po' vedremo le streghe bruciate in piazza quindi lo sappiamo che ci possono essere dei problemi soprattutto e qui sono molto d'accordo con il nostro libro se queste persone che si dichiarano religiose non hanno una mentalità orientata alla pace se uno è religioso ed è pacifico non ci sono problemi di solito se uno è religioso invece ma profondamente intollerante quindi dice io ho la verità e tutti gli altri sbagliano tutti gli altri pensano diversamente da me sbagliano e allora ovviamente cominciano le tensioni cominciano i conflitti abbiamo visto per il medioevo e anche oggi non è cambiato niente rispetto a questo su una mentalità aperta di pace si convive tranquillamente se uno pensa ad avere la verità in tasca è molto difficile che prima o poi non nascano problemi immigrazione ah sì volevo mostrarvi qui ah ecco la demografia dell'ateismo chi non crede in nessun dio ecco questa qui è la mappa dell'Europa vedete quelli in rosa più chiaro sono quelli più cristiani quindi gli italiani i polacchi soprattutto quelli più orientati verso l'agnosticismo o l'ateismo sono i francesi gli scandinavi il nord Europa eccetera eccetera tendenzialmente quelli più ricchi sono anche un po' più ateli gli immigrati arrivano sono a pagina 168 abbiamo quasi finito promesso gli immigrati arrivano in Europa in cerca di lavoro servizi sociali buone condizioni di vita molti di loro trovano un lavoro trovano una casa fanno una famiglia eccetera eccetera però rimangono immigrati cioè è molto faticoso è molto difficile ottenere il passaporto italiano o il passaporto francese o il passaporto tedesco la cittadinanza e quindi si ritrova in una situazione a metà in cui magari sono partiti da Nigeria vent'anni fa hanno fatto tanta fatica hanno fatto qualche lavoretto hanno sofferto molto di solito poi finalmente hanno trovato un lavoro hanno preso casa hanno messo su famiglia eccetera eccetera in figli vengono mandati a scuola e quindi sono italiani al 100% perché parlano italiano eccetera eccetera ma non hanno il passaporto italiano hanno il passaporto del Congo che è un paese da cui mancano da vent'anni e quindi sono privi di cittadinanza qui impariamo due o tre paroline un po' difficili però non è difficile se ci pensate ragazzi cioè provate a farvi la domanda intanto qui vediamo gli immigrati che raccolgono la verdura sul suolo italiano quella che poi arriva sulle nostre bancarelle dicevo provate un po' a farvi la domanda ragazzi secondo voi come fareste per dare la cittadinanza a a una persona il passaporto italiano ovviamente la risposta più facile è vabbè però facile se mia mamma è italiana mia mamma è italiano io sono italiano quindi essere figlio di una coppia di italiani vabbè certo benissimo un punto per voi poi domanda che vi posso fare ma e se la mamma italiana e il papà non è italiano è che ne so americano a che passaporto diamo a sto ragazzino che nasce vi dico come si fa di solito gli si danno due passaporti un passaporto italiano e un passaporto americano perché ha la doppia cittadinanza la mamma italiana il papà americano di new york e quindi lui beato lui ha due passaporti se invece tutti e due papà e mamma sono che ne so della nigeria il bambino che nasce in italia è italiano no meno oggi no potrebbe diventare italiano secondo voi dipende eh quanti anni fai in italia fai gli studi in italia parli italiano eccetera eccetera vediamo un po' come siamo orientati in Europa in Europa in Italia vale quello che dicevamo prima il diritto di sangue cioè se la mamma e il papà sono italiani il bambino è italiano anche se solo la mamma solo il papà è italiano il bambino ha il passaporto italiano più il passaporto americano quello che è del secondo genitore ok in latino questo si chiama ius sanguinis ius vuol dire diritto vuol dire la legge la legge del sangue eh se mio papà e mia mamma hanno sangue italiano almeno uno dei due io ho sangue italiano e quindi ho il passaporto italiano esistono altri paesi invece dove non funziona così ad esempio gli Stati Uniti se una donna che ne so del Costa Rica è incinta arriva negli Stati Uniti e partorisce sul suolo americano li vale il diritto del suolo in latino si dice ius la legge del suolo del territorio io nasco in America e negli Stati Uniti bene ho il passaporto americano ok quindi la cittadinanza attribuita in base al luogo di nascita anche se la mia mamma è di Santo Domingo mio papà è dell'Equador ok in Italia e in Europa noi abbiamo lo ius sanguinis eh posso diventare italiano soltanto se o il mio papà o mia mamma o tutti e due sono italiani poi c'è stata anche eh salto un momento ragazzi a pagina 170 poi c'è stata anche la proposta per perché è molto complicato prendere la cittadinanza per i bambini che nascono in Italia ma hanno il passaporto che ne so marocchino nigeriano eh arrivano a 18 anni questi bambini e devono fare la domanda di cittadinanza eh che è molto complicata molto costosa arriva dopo anni eccetera eccetera ed è abbastanza assurdo perché se un bambino è nato a Varallo diciamo nell'ospedale di Borgosesia poi vengono i genitori che sono nigeriani vivono a Varallo l'hanno mandato all'asilo a Varallo all'elementare a Varallo alle medie a Varallo le superiori a Borgosesia è più italiano di me quel bambino lì nel senso che parla italiano parla anche un po' di dialetto valsesiano mangia le ammiaccia va a montagna va a sciare eccetera eccetera anche se ha la pelle nera eh quindi questi bambini dobbiamo continuare a come si dice a considerarli non italiani c'è stata appunto la proposta di fare un altro IUS eh diritto la legge la legge della cultura IUS culture sempre in latino la E la E si legge E in che senso? c'era una proposta che poi non è mai andata in porto in altri paesi invece sì cioè i bambini che sono nati all'estero o anche in Italia ma che hanno fatto in Italia almeno un po' di anni di scuola e quindi hanno imparato la lingua sono andati a mensa hanno fatto amicizia sono andati a fare la squadra di calcio di pallavolo sono andati a fare il corso di sci di nuoto eccetera eccetera di dar loro la proposta è appunto di dar loro dopo questo ciclo di studi in Italia la cittadinanza italiana eh quindi io insisto ragazzi perché se ne parla prima del virus almeno se ne parlava abbastanza sui giornali nei telegiornali IUS sanguinis IUS sanguinis cioè io do la cittadinanza a un bambino in base alla cittadinanza dei suoi genitori se sono italiani o almeno uno è italiano allora avrà la cittadinanza italiana poi c'è lo IUS soli se il bambino nasce in America allora è americano eh anche se il papà è qua a Doregno è la mamma di Santo Domingo e poi lo IUS culture che esiste in alcuni stati da noi è solo una proposta dare il passaporto la cittadinanza italiana ai bambini che fanno almeno 5, 7, 10 anni di scuola ininterrotta in Italia quindi hanno imparato l'italiano eccetera 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 eh poi torniamo alla nostra pagina 167 anzi 168 oramai scusate ho perso il segno no non siamo qui ecco eravamo pagina 167 e 168 ok IUS sanguini IUS soli e IUS culture segnatelo qui di fianco c'è anche lo IUS culture anche se è solo una proposta poi pagina 169 il valore del cittadino quali sono i vantaggi di essere cittadini in un paese perché serve il passaporto perché agli immigrati piacerebbe dopo un po' di anni che vivono in Italia o in Francia o in Germania diventare cittadini italiani e francesi o tedeschi perché ad esempio una persona con il passaporto che è cittadino insomma può andare a votare voi direte non è una gran cosa e dipende perché a seconda di chi vince quello che vince decide come spendere i miei soldi che ho pagato con le tasse quindi io sono un cittadino nigeriano che vive in Italia da dieci anni che lavora che ne so a loro piano un'altra ditta che paga le tasse che fa tutto quello che deve fare non può nemmeno votare per il sindaco che il sindaco poi è quello che deciderà come spendere le sue tasse quindi capite che come scrive giustamente qui il vostro libro non può esistere il diritto di tassare un popolo se quel popolo non può votare i propri rappresentanti tu non puoi chiedermi soltanto le tasse nelle dittature funziona così nelle democrazie se io pago le tasse tu mi fai votare e mi fai decidere chi vince chi perde e in modo che queste tasse possano essere spese come io desidero eh almeno io ci provo col mio voto eh poi chi vince le elezioni le vince avere il passaporto italiano vuol dire anche poter accedere a tutte le professioni oggi se non sei italiano non puoi ad esempio essere un poliziotto un magistrato un soldato o altre cose eh e poi ovviamente il passaporto ti evita un sacco di difficoltà burocratiche cioè girare per gli uffici i documenti il permesso di soggiorno il rinnovo eccetera eccetera inoltre lo stato italiano francese e tedesco ha anche dei vantaggi eh ad avere dei nuovi cittadini perché perché se tu dai il passaporto italiano a un immigrato gli dice bravo ti sei comportato bene sono dieci anni che paghi le tasse che lavori i malati figli a scuola io te lo do il passaporto e come averne cittadini come te che pagano le tasse che mandano i bambini a scuola tanti italiani non le pagano eh le tasse quindi siamo ben contenti di avere di nuovo i cittadini così e allora questo nuovo cittadino italiano questo nigeriano entra a tutti in tutti gli effetti a far parte di una comunità nazionale eh e ha tutto l'interesse poi a difenderle a contribuirvi eh se ci invadono gli alieni eh lui andrà a fare soldato ok gli stranieri che lavorano in un paese devono eleggere eh i loro rappresentanti ovviamente e e basta insomma queste sono eh questo è un po' il dibattito sulla cittadinanza eh un po' un dare avere questo l'abbiamo già visto prima ragazzi eh lo ius sanguinis e lo ius culture anzi e direi che abbiamo finito eh vedete qui c'è anche un esercizietto ius sanguinis ius soli e ius culture eh sarebbe bello poterci confrontare ovviamente lo faremo probabilmente l'anno prossimo io ragazzi vi ringrazio dell'attenzione vi do qualche esercizietto per la prossima volta statemi bene tenete duro e arrivederci a presto